TG 12 ben trovati edizione estiva del nostro telegiornale andiamo a vedere subito i principali titoli della giornata. Sono stati stanziati dalla giunta regionale 38 milioni per aiutare le aziende agricole che sono state colpite dai danni della siccità del 2017. L'accordo commerciale di libero scambio tra Europa e Canada non piace a Di Maio e il senatore Liccheri dice favorisce ingresso a prodotti di scarsa qualità. Luto nel mondo del calcio sassarese muore a soli 47 anni l'ex giocatore della Torres, Giovannino Oggiano, era stato ricoverato ieri al Santissimo Annunziata. Lo avete sentito dai titoli del nostro sommario? Partiamo dal capitolo siccità. La giunta regionale ha dato il via libera per la spesa di 38 milioni da destinare alle aziende agricole colpite dai danni naturali, in particolare dalla siccità del 2017. Ce ne parla Sandra Sanna. Via libera dalla giunta regionale per la messa in spesa di 38 milioni di euro per interventi diretti alle aziende agricole, escluse quella dell'Ovi Caprino colpite dalle calamità naturali del 2017. Le risorse fanno parte del pacchetto finanziario messo a disposizione da Regione e Governo per un aumentare totale di 45 milioni, 20 stanziati dal Consiglio regionale, altri 25 inseriti nella legge finanziaria nazionale. I parametri unitari dell'aiuto prevedono uno stanziamento di 65 euro a capo per i bovini da carne e di 15 per quelli da latte. Per le foragiere sono stati invece stanziati 50 euro a ettaro, per i cereali 65 e per le leguminose 35. Alle ortive in pieno campo sono dedicati 450 euro a ettaro, 800 al pomodoro da industria, 900 alle patate, 650 ai fruttiferi e 100 alla frutta secca e poi 500 a ettaro per gli agrumi, 4,60 per la vite e 60 per l'olivo. Il comparto appistico riceverà invece un aiuto di 15 euro ad alveare. Con la definizione dei parametri unitari di aiuto dedicati a tutti i comparti agrozootecnici si completa il piano di attività della Regione per contrastare i danni causati dalle calamità, in particolare dalla siccità del 2017. Lo ha detto l'assessore all'agricoltura Pierluigi Caria nel commentare l'approvazione della delibera che definisce la ripartizione di 38 milioni dei 45 disponibili. E ora parliamo di economia. L'accordo di libero scambio commerciale tra Europa e Canada, noto come CETA, è approvato dal Parlamento europeo, non piace al ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio. Alcune associazioni di categoria di prodotti, anche sardi, invece sono favorevoli, ma il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Liccheri, dice che favorirebbe l'importazione di prodotti di minore qualità. Diversa invece la posizione del sì all'accordo. Sentiamo però tutti i dettagli nel servizio. In questi giorni, al centro del dibattito politico europeo, nazionale e locale, c'è il CETA, un grande accordo commerciale di libero scambio tra Unione Europea e Canada, accordo europeo che deve essere ratificato anche dai singoli governi nazionali, una prassi non molto frequente e che l'Italia ha deciso di utilizzare per non appoggiare la decisione europea. In Sardegna il Consorzio del Pecorino romano è a favore del CETA. Il governo, con il nodi Di Maio, è invece contrario, come anche la Col di Retti e altre associazioni di categoria. A prendere posizione sostenendo le tesi del no all'accordo commerciale tra Canada e Europa, anche il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Liccheri, presidente a Palazzo Madama della Commissione Politiche UE. Le esportazioni di prodotti sardi e italiani, insieme agli accordi già sottoscritti, non subiranno nessun effetto negativo dalla mancata entrata in vigore del CETA, assicura il senatore pentastellato. Inoltre l'accordo del libero scambio presenta un prezzo da pagare troppo alto, spiega Liccheri, il pericolo è che aumenteranno le importazioni di prodotti canadesi di minore qualità rispetto ai nostri. Ma il dibattito è aperto e le posizioni del CETA sono stati molto ben illustrati in un articolo del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che spiega come l'irrigidimento del ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio non vada del tutto a vantaggio del nostro paese. Infatti, secondo le posizioni del CETA, l'accordo significherebbe l'impossibilità in futuro di trovare una sintesi adeguata tra la centralità decisionale europea e sovranità nazionali. L'affossamento del CETA inoltre aggiunge di fatto un tassello al protezionismo trampiano e che oggi c'è anche una nuova via italiana al protezionismo. È stato dimostrato infine, spiegano sul Sole 24 Ore, come per la gran parte dei nostri prodotti l'accordo significhi maggiore tutela attraverso le denominazioni di origine e l'apertura di un mercato molto importante. Se alcuni interessi tra l'altro davvero minoritari non fossero adeguatamente tutelati, il governo dovrebbe in un secondo tempo negoziare modifiche parziali degli accordi. Ora la palla passa al Parlamento che dovrà sentire la commissione competente e poi passare al voto, ma la strada sembra ormai tracciata. Ed ora siamo alla cronaca arrestata dai carabinieri di Algera, una 18enne algherese per detenzione di marijuana. La giovane era stata annotata dai militari in borghese in piazza dei mercati che, alla vista di una pattuglia, si era allontanata velocemente. La ragazza è stata quindi seguita fino a via Garibaldi dove è stata affermata e perquisita. Nascosti nei calzini aveva 35 grammi di marijuana suddivisi in quattro involucri di celofan. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di 25 grammi di erba e due bilancini di precisione. Questa mattina la convalida dell'arresto da parte del giudice che l'ha anche disposto la misura dell'obbligo di firma presso il comando della stazione di Alghero. Lasciamo la cronaca. Giornata formativa questa mattina per oltre 300 ragazzi che hanno partecipato al test day per accedere ai corsi a numero chiuso di medicina che si svolgerà tra due mesi. Vediamo. Oltre 300 studenti hanno partecipato questa mattina al test day nell'auditorium di via Montegrappa. L'evento formativo dedicato al concorso che si svolgerà tra due mesi per accedere a medicina o dontoietria veterinaria e professioni sanitarie in cui i partecipanti hanno potuto sperimentare il nuovo metodo di apprendimento con la realtà virtuale. La giornata è stata organizzata da Uau e formò ora istruzione con il patrocinio dell'Università di Sassari e il contributo della Fondazione di Sardegna. L'obiettivo era quello di approfondire alcuni aspetti del concorso, in particolare il decreto ministeriale per comprendere tutti gli argomenti oggetto di esame ma anche una vera e propria simulazione del test d'accesso. Nel corso della giornata è stato anche presentato il progetto formativo in realtà virtuale di Uau, l'azienda Sarda e Social e-Learning specializzata nella preparazione ai test d'accesso medico-sanitari. Grazie a questo nuovo metodo di apprendimento gli studenti possono osservare da una prospettiva totalmente nuova al corpo umano e comprendere quanto determinate patologie possano alterare i tessuti. Nei passati concorsi di medicina sono state riscontrate sempre più spesso irregolarità. Per questo motivo l'avvocato amministrativista Francesco Leone ha fornito ai partecipanti alcuni consigli su come comprendere le anomalie del concorso. Prende il via venerdì prossimo il Festival delle Bellezze con l'obiettivo di fare della musica corale la colonna sonora delle bellezze paesaggistiche e archeologiche del territorio. L'iniziativa ideata dall'insieme vocale Nuova Eufonia, concerti, mostre ed eventi al centro di restauro dei beni culturali di Lipunti, al sito pre-nuragico di Monte Baranta e a Olmedo e al nurag di Santu Antine a Torralba. Sentiamo Luca Fodai. Tre giornate di festival per fare della musica corale la colonna sonora delle bellezze naturalistiche e archeologiche del territorio. È il Festival delle bellezze nato come idea del maestro Vincenzo Cossu. È l'insieme vocale Nuova Eufonia, elemento di unione tra i diversi protagonisti. Il coro polifonico turritano, il coro polifonico Santa Croce, la corale studentesca Città di Sassari, il coro Città di Ozzieri, su Cuncordu Plano de Murtas, il coro degli allievi della scuola civica di musica Meilogu, insieme al gruppo folk San Nicola di Sassari e alla pitrice Enza Sileci. Ispirandosi a San Francesco e alla Divina Commedia, il maestro Cossu ha denominato cantica ciascuna giornata, con l'intento di aprire un sentiero estetico che accenda negli operatori e negli amministratori, il desiderio di riportare le bellezze culturali a rivedere le stelle. Si inizia venerdì 20 luglio alle 18 al centro di restauro dei beni culturali di Lipunti, con la prima cantica dedicata alla bellezza resiliente. Si prosegue sabato a Olmedo con la seconda cantica, la bellezza del creato, alle 17.30 alla Butterfly House e dalle 19.45 nel sito pre-nuragico di Monte Baranta. Domenica giornata finale con la terza cantica, la bellezza inquadrata, dalle 18 al nuraghe di Santo Antine a Torralba. La prima edizione del Festival delle bellezze è stata presentata negli spazi della biblioteca della soprintendenza archeologica in Piazza Sant'Agostino. Sono intervenuti, oltre al direttore artistico Vincenzo Cossu, il soprintendente Francesco Di Gennaro, il sindaco di Sassari Nicola Sanna, il primo cittadino di Olmedo Toni Faedda e Tommasina Manconi, segretaria generale in rappresentanza del comune di Torralba. Ed ora in breve, nel prossimo servizio, tutte le altre news della giornata. Sentiamo. Come previsto all'esigenza del piano regionale antincendi, alla Sinara da venerdì 20 luglio entra in operatività anche la squadra di Forestas. La presenza del corpo forestale è stata sinora quotidiana, grazie alle due motovedete della base navale di Porto Torres e del reparto dell'isola. Nel frattempo il personale dell'agenzia ha svolto tutta l'attività preparatoria sistemando la viabilità rurale per liberare dalle erbacce l'accesso alla vedetta. Il maestoso monastello di San Pietro di Sorres farà da sfondo lo spettacolo di tamburi giapponesi Taiko Nokoe, la voce del tamburo. La serata è in programma mercoledì 18 luglio e promossa l'associazione culturale Norma Teatro in collaborazione con il comune del Meilogu. Il trio composto da Rita Superbi, Katia Castagna e Marilena Bisceglia mettere in scena una performance all'insegna dell'eleganza e della potenza di movimenti, utilizzando la tecnica del Taiko. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 20.30. Tappa sassarese ieri sera al vecchio mulino per il tour italiano di Leo Eymarchi, terrista brasiliano con la viola dei sette cordaschi, terra sette corde da Cioro, brasiliana, che caratterizza la battida a ritmo della bossa nova con influenze ritmiche tra regolarità dei bassi e l'irregolarità degli accordi. Il musicista si è esibito davanti ad un pubblico entusiasta con composizioni tradizionali ed inedite. Un vasto repertorio di ritmi latini e musica popolar brasilera. Fino al 25 luglio a Sassari, presso il Centro d'Arte, Cultura, Arte, Caos e Poesia, sarà possibile ammirare l'esposizione Brothers in Color Bernardinelli. Tre tecniche e tre stili per i tre fratelli, vignetista ironico franco, disegno paseggistico e surreali con toni armonici per Emanuele e dipinti tra ritratti e nature morte per Carla, che si è dedicata alla pittura sin da giovane incoraggiata da Costantino Spada. Prosegue con grande successo la diciottesima rassegna internazionale organistica inserita nel più ampio cartellone del Festival del Mediterraneo 2018. Mercoledì 18 luglio nella cattedrale di Santa Maria d'Alghero è in programma un omaggio a Ili Willan, una serata dedicata al grande compositore organista anglo-canadese. A eseguire le sue composizioni sarà Corrado Cavalli, organista della chiesa di San John Cantius di Chicago. Ci fermiamo ora per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi! Cavalli, 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 cav Grazie a tutti. La sassari sportiva piange giovanino Oggiano, ex calciatore professionista, da sempre sui campi di calcio dove si occupava del settore giovanile, oltre a condurre l'azienda di famiglia. Il dirigente ha i 47 anni, padre di un bimbo di un anno, ieri sera è andato in ospedale e nonostante il pronto intervento dei medici ha cessato di vivere. L'autopsia cercherà di dare risposte ad una tragedia improvvisa che lascia attoniti i tanti amici del mondo dello sport, in particolare del calcio sassarese, dove era prodato negli anni Ottanta. Ed ora all'automobilismo, il pilota Omar Magliona che è impegnato nel campionato italiano di velocità in montagna, i nostri microfoni, parla dello stato dei lavori di ampliamento della pista dell'autodromo di Mores. Sentiamo Icone Bichesso. Visita gradita alla redazione sportiva della nostra emittente. Omar Magliona ci parla della sua stagione. Sicuramente è gratificante, non solo per me ma anche per tutte le persone che mi aiutano. Penso di avere un senso di riconoscenza nei confronti di tutte le aziende che mi sostengono. Quindi sto tenendo duro, la concorrenza sicuramente è abbastanza agguerrita, quindi è impossibile distrarsi e bisogna mantenere ben salda la concentrazione per cercare di fare sempre meglio. Il feeling con la tua norma cresce gara dopo gara. Un grande team a supporto. Sì, sicuramente. Il team Fagioli, il capitanato da Simone, è la mia base, il mio punto di partenza, quindi grazie a loro oggi possiamo e posso guardare lontano. E questo diciamo che ci aiuta sotto tanti aspetti anche quelli più difficili. Lasciamo stare un pochino quello che è la gara, il tuo impegno nel campionato italiano velocità montagna che ti vede super protagonista. Parliamo invece del work in progress nel tuo buon retiro, l'autodromo di Mores. L'autodromo di Mores cresce giorno dopo giorno. Diciamo che quel sogno è ormai prossimo, i lavori stanno andando avanti. Dovremo essere pronti, incrocio le dita se tutto va bene, entro la fine dell'anno, vedere la realizzazione di un circuito di 3.100 metri. Tutti stanno lavorando in maniera assidua e con queste basi qua chiaramente è tutto più facile e meno in salita, visto che è la mia disciplina sportiva. Finisce qua questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo, ora io mi fermo qui, vi ricordo, che potrete rivedere questo TG sul nostro sito, canale12.it, e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. Inoltre se siete in possesso di un decoder sky ci trovate al canale 5012. restate sintonizzati con noi anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. A me non resta che ringraziarvi per averci seguito, darvi appuntamento alla prossima edizione e augurarvi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.